Sottopassi d'artista grazie alla street art delle grandi firme per rendere omaggio alla giostra del Saracino. Si tratta del progetto patrocinato e finanziato dal comune di Arezzo con gli assessorati alle politiche giovanili e alla manutenzione dal nome Arezzo Accesso all'arte. È un progetto importante perché coinvolgerà direttamente i giovani, coinvolgerà direttamente anche le scuole, coinvolgerà anche chi ha un interesse appunto a portare avanti questi progetti. I luoghi in questione sono il sottopasso che collega via Guadagnoli al parco Pertini e l'altro tra via Tricca e il parco Elsa Rosanofri. La città e i cittadini saranno parte integrante della realizzazione dell'opera e dell'opera stessa con un triplice obiettivo. Da un lato il coinvolgimento appunto dei cittadini e dei giovani, da un altro la riqualificazione di questi due sottopassi urbani e in ultimo ma non per ultimo dotare la città di queste due nuove opere d'arte muraria che siano anche motivo di attrazione e di curiosità da parte di turisti e visitatori. Fino al 2 aprile con la presenza dell'artista Davide Daviuvecchiato, uno dei primi creatori di opere di urban art in Italia. Ritengo che il writing sia stato molto importante, i graffiti all'epoca in cui sono nati perché hanno sbloccato un po' le città e perché poi era questa forma d'arte che nessuno riusciva a capire, non sapevano dargli una logica e noi quando non riusciamo a rendere funzionali le cose andiamo un po' in crisi. Poi dopo l'arte però si è sviluppata sempre di più, quello che si fa oggi è veramente arte pubblica. Le opere d'arte muraria celebreranno la giostra del Saracino in un mix culturale tra antico e contemporaneo. La giostra è visitabile in tutte le sue componenti anche al di fuori dell'ambiente in cui è nata e in cui è vissuta, quindi piazza grande. Deve essere vissuta anche nel resto della città anche con interpretazioni che potrebbero anche sembrare magari non aderenti a quella che è la tradizione. Sabato 2 aprile il gran finale con l'accoppiata Arezzo Accesso all'Arte dalle 9.30 alle 17.30 e l'edizione 2022 del Big Event organizzato come ogni anno dall'Università dell'Ocleoma. Il volontariato per noi è una forma appunto sinergica di stare in società e per questo Big Event appunto i nostri studenti insieme agli universitari anche di Siena e tantissimi altri volontari della città di Arezzo aiuteranno alla creazione di questa bellissima opera d'arte che rimarrà speriamo nel tempo per l'appunto a raccontare quello che sta succedendo ad Arezzo.